Finalmente qui, il mio piccolo cristiano. Che sentimentale! Sapete, non rimanevo così senza piatto da quando il nostro Ronaldo è andato al Milan, eh? Siete la curva del Chievo o cosa? Ehi, come andiamo? Sei in forma? Bella maglia! Allora, Inter, alla fine ce l'hai fatta. Come va in campionato? Beh, non c'è malaccio, sai? Brutto inizio, sette vittori di fila e poi... Ehi, K.O. con l'Atalanta che vuoi farci? Ah, ecco il vostro nuovo grande campione, il gioiellino. E c'è una bella entrata di Skriniar per te, tutta per te. Ancora fortino il tipo. E dai, Inter, non fare sempre il rosicone. Vieni a giocare con noi! Ehi! Vorrei tanto, amore. Ma a differenza di voi test di serie che fate salotto quassù, io, purtroppo, ho un progetto a tempo pieno che devo portare avanti per raggiungerti. Juve. Perciò, niente. Vorrei tanto, ma niente. Dovrai rallentare, ti ritroverai in serie B. Ti ritroverai in serie B! Oh, sta valendo! Io in B, non ci sono mai stato. Io in B, non ci sono mai stato.